Sulla mappa tattica, buona cazzo Sono matto Mi son morto invece Ti volo Madonna raga Dov'è? Non è nientro, è troppo atto È sparito Ma Ma 3 3 3 3 3 What's up guys? Quei vostro Naked che vi parla ragazzi Siamo tornati con un nuovo video Signore mio nazionale Oggi è qui Per portarvi La versione Definitiva Dell'MP5 Con l'accessorio raga Che vi aiuterà A velocizzarvi Al massimo Ma proprio che Fate dei movimenti Che sembrate Zio Faustino Dei boa costrictors Beh sì raga Perché è stato fuori Un calcio Che in particolar modo L'effetto che ha È Boostare Al massimo Lo strafe Ok? Quello che state vedendo adesso Ok? Che lo fate da in piedi O che lo fate da covacciato Si chiama strafe Ok? Che è quello che serve Sostanzialmente per spostarti Ma in realtà Ha una doppia funzionalità Perché Lo si usa soprattutto Nel momento in cui si spara Per cercare Un po' di Diminuire l'eim assist Al nemico Un po' per cercare di Non farvi Prendere al massimo E con questo accessorio Lo farete In modo più veloce Quindi Non ve lo dico neanche Quanto è importante Avercelo E poi si ragazzi L'accessorio in questione È il calcio FT Mobile Che voi siete covacciati Che voi siete In piedi Vi muoverete Alla massima velocità Nel momento in cui Puntate Con l'arbre Raga Incredibile L'utilità Ve ne accorgerete Poi quando Lo utilizzate Soprattutto nel momento in cui Fate dei gunfight E Siete Gente che utilizzate Molto Strifata Se non Non lo fate Vi consiglio di Abituarvi A sparare Ovviamente Puntando Un solo bersaglio Lo faccio vedere Lo faccio rivedere Al volo Ok Puntando un solo bersaglio Come in questo caso Come vedete Stando ovviamente Fermi con la mira E Muoversi a destra A sinistra Raga Importantissimo Imparate Piuttosto vi mettete Con i bot Ma Vedete Questa cosa qua Raga È importantissimo Sì Ma vi Cambia il gunfight Raga Cioè un conto Star fermi E sparare Un conto Invece Puntare Sparando Continuare a muoversi Ok Perché Ovviamente Tutti i colpi Che il nemico Poi cercherà di darvi Parte Non entrerà Proprio perché Fate destra E sinistra Quindi Con questo accessorio Massimizziamo Questa operazione Ovviamente Raga La build Non è finita qua L'accessorio è calibrato In meno 1,47 Velocità Camminata In puntamento Che è sempre Per lo strafe Laserone Ovviamente LZRV Non calibrato Così come lo vedete Volata XRK Sandstore Calibrato in più 0,41 Stabilizzazione in culo Più 0,15 Controllo Recoil Munizioni punta cava Puliti puliti E caricatore Da 40 colpolone Non vi dico neanche Raga Ve lo consiglio Questa è la versione Definitivissimissima Della MP5 Se proprio volete fare Un altro change Mettete 50 colpi Ma Solo quello Diciamo Il cambio Che vi consiglio Di fare Per il resto Raga Provatela E ovviamente Fatemi sapere Qua sotto In commento Cosa ne pensate Del nuovo MP5 Definitivo Del nazionale Noi belle mia Ci vediamo domani Con il prossimo video Bella rega Soldato nemico in arrivo Cazzo nessuno Mi sa manco qua C'è qualcuno Ho visto il tuo ting Blu Ho detto Ah l'ho rientrato Se no L'ho sparato Figa Mi fai arrabbiare Ah che ho fatto Riuscii a dartela C'è avvi le armi Maledetto Cazzo di fango Vedi 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 UAP di disturbo Stile attivo I nemici hanno schierato Un UAP Che arma uso Sdx 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 Ssdx Sdx Sdx Bah Sdx 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 Madonna Mega Mazz 19 Sdx dx un po c'è qualcuno dietro ma pure puntato sono staccati un pochino schiattrati subito una novità sono a casa dei camper è sparito oddio che ambush ho preso posso uscire come buonasera qui sta davanti quasi craged quasi craged e uno da dietro faccio guavi tattico merda ma questo non l'ho sentito raga mai giuro mai 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 aio 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 mi ha fatto male eh niente non la raccoglie mica è normale che non venga nessuno si sono tutti fuori tutti fuori e tutti i fantasmati che pavio il suo team nella zona sicura soldato nemico in atto non ci credo è tornato sul tetto a te pensa che roba è tornato sul tetto ma che spara da destra è tornato è tornato è tornato è tornato è tornato è tornato contro i pixel contro i pixel è tornato il pastor il pastor è tornato il pastor è tornato ti volo si volo madonna raga no no pastor ti prego ti prego ti prego volo a girato l'angolo non ci credo guardate avevo fatto una roba incredibile giuro non ci posso credere giuro grazie amore noo quanti sono noo c'è un altro dietro che schifo questi c'è uno sotto anche io che cazzo si è messo questo come li vedi questi qua la zona sicura è molto distante questi qua in due ce l'avevano sto coso staccato uno lo shot one staccato ancora ma è mortale che schifo questi mio dio poca madonna ci sono un paio che fanno vomitare frazzi con le mine questo dio ho messo anche io le mine eeeh pollo nooo un coltellino nice ma dov'è ma è sopra va vaffanculo craccato 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 ma ti ho detto? si si no one shot one shot qui nice e vaffan guccolo va bravo sergione non 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 non